Bello andare a lavoro in bicicletta, ma che sudata! Per questo ho studiato il deodorante Infasil che trasforma il sudore in freschezza. Nei laboratori farmaceutici Angelini nasce Infasil con l'esclusiva molecola 2C. Ogni particella di sudore attiva una molecola 2C che rilascia fresco profumo. Più sudore, più freschezza. Ancora più sudore, ancora più freschezza. Quindi più sudi, più sai di fresco. Deodorante Infasil. Più sudi, più sai di fresco. Grazie.